Si svolge a Casoli la seconda edizione del premio nazionale Lea Garofalo, ideato dall'associazione antimafia antiusura Diogenes. La manifestazione rientra nella settima edizione del Festival della Legalità, promosso dall'Istituto Algeri Marino, coordinato da Gianfranco Marsibilio, la dirigente scolastica Costanza Cavaliere. Ci occupiamo di legalità da sette anni, con l'inaugurazione di un festival che fa un po' da contrapasso al concetto, invece che dietro la conquista di una legalità è praticamente necessario attraversare, compiere anche con fatica. E ospitiamo in questo caso una attenzionatura particolare ad un premio, centrato sulla figura femminile di Lea Garofalo, che è una testimone di attualità in merito ad un comportamento civile esemplare di una persona che lotta per affermare determinati principi, prima di tutto a livello personale e poi in senso più ampio all'interno del contesto suo di appartenenza, nonché per degli affetti profondi come poteva essere il passaggio di testimoni e di significati alla propria figlia Denise. Ieri, la prima delle quattro giornate, con un incontro con gli studenti in teatro, dove sono stati esposti gli elaborati delle scuole che hanno partecipato al concorso sui temi della legalità. Il 24 novembre la premiazione dei ragazzi e dei testimoni del nostro tempo, i cui nomi sono stati annunciati in conferenza stampa da Paolo De Chiara. Verranno qui a Casoli a ritirare il premio realizzato dai ragazzi per Aiello, Tonino Braccia, Lina Calandra, Luigi De Magistris, Roberto Di Bella, Giuseppe Lombardo, Brizio Montinaro, Raimondo Semprevivo, Fortunato Zigni, Sonia Alfano, Michelangelo Di Stefano e Pino Finocchiaro, il giornalista di Re News 24. Quest'anno, oltre ad aver individuato questi testimoni del nostro tempo, persone che si sono distinte in questo campo, in questo settore, abbiamo con un bando allargato la platea a diversi istituti scolastici nazionali che hanno risposto, diciamo, in maniera positiva. Lea Garofalo è stata uccisa dalla mafia calabrese a Milano nel 2009, una delle tante vittime di mafia, che va combattuta partendo dai giovani, come ha detto Pino Cassata, che porta questo messaggio nelle scuole. Questo premio a Casolici inorgoglisce, ha sottolineato il sindaco Massimo Tiberini. Oggi più che mai il comune di Casoli si mette contro le mafie, contro chi vuole trovare dei percorsi sbagliati per arrivare a fini sbagliati.